Ok, la registrazione ha avuto inizio. Molto bene. Direi che possiamo partire con quella che è la lezione del giorno. Allora, procediamo nel nostro percorso. Oggi facciamo una lezione strettamente legata a quello che è l'interesse del nostro modulo, ma che come idea di base dovrebbe, come al solito, potersi proiettare anche su quelle che sono le vostre realtà. E' una cosa a cui io tengo molto perché in realtà per due motivi. Uno, intanto vabbè, il tema è il match analysis. Quindi il, diciamo, il tentativo di capire quali sono gli eventi discriminanti all'interno di una gara o di un allenamento che possano essere di interesse ai fini del risultato finale. Ok, e in prima analisi appunto tengo a questo tipo di discorso per un motivo fondamentale che è quello per cui probabilmente anche in questo momento sono qui che parlo, è stato il mio avvio di carriera all'interno del mondo sportivo. E' stata la mia scelta, diciamo, iniziale preliminare che mi ha portato poi a sviluppare altre competenze che hanno fatto sì che faccio il mestiere che faccio. E per seconda situazione è che fa parte, come al solito, della richiesta federale per quanto riguarda la gestione degli eventuali cartellini per chi di voi supererà l'esame con più di 27 e potrà di fatto accedere alla qualifica di allenatore federale. E quindi bisogna anche sviluppare un po' di competenze. In generale, per tutti quanti, per chiunque lavora nel mondo dello sport, di certo bisogna conoscerne alcuni estremi e sapere comunque maneggiare perché è un strumento, come vedremo, abbastanza importante. Procederei con... Cosa è successo? Qua. Ok. Procederei con la presentazione e... Ok. E vediamo in prima battuta che cos'è questo match analysis. Il match analysis è l'analisi oggettiva di eventi o elementi comportamentali avvenuti durante una gara sportiva dove per elementi si intende la scomposizione del gioco in principi semplici. Che cosa significa? Significa che quando parliamo di attività open skill, quindi attività come quella che è oggetto del nostro modulo, uno sport situazionale, siamo costretti a cercare di ridurre, a regredire i vari elementi che la compongono in situazioni più semplici per poterle oggettivare, per poterle valutare in maniera concreta senza dover ricorrere a un'indagine di tipo soggettivo. Quindi possiamo tutti quanti guardando un'azione valutarla in maniera univoca agli occhi dei singoli osservatori. Per fare questo, appunto, se parliamo di prestazioni, diciamo, di performance, se che la situazione è molto più semplice, come potremmo vedere, se parliamo di sport, di sport di squadra, dobbiamo per forza ridurre a situazioni più semplici che possono essere indagate singolarmente e riportarci a una tendenza di tipo generale. Perché si fa questa operazione? Intanto perché bisogna conoscere punti di forza e di debolezza del nostro gruppo ed eventualmente del gruppo avversario. Questa è una cosa indipendente, no? Sapere che cosa succede nel mio campo e attenzione, quando parlo di campo, non parlo di campo solamente di pallavolo, parlo di qualsiasi tipo di campo da gioco che vede protagonista una squadra che interpreta un gioco sportivo. Devo sapere quali sono le caratteristiche del mio gruppo, devo sapere quali sono le debolezze del mio gruppo per cercare di esaltare i punti di forza e nascondere i punti di debolezza. Perché alla fine della questione il gioco è sempre quello, cercare di vincere. Abbiamo poi delle problematiche di tipo oggettivo durante la gara. Abbiamo un discorso puramente mnemonico, non possiamo ricordare tutti gli accadimenti della prestazione per tutti i giocatori all'interno del progetto di GAR. Quindi, mentre alleni, mentre segui la tua squadra, non puoi ricordarti tutto. Devi necessariamente utilizzare comunque un metodo per poter valutare quello che succede. Poi, è ovvio che a seconda del livello, come vedremo, in cui noi ci andiamo a rapportare, avremo un'indagine più o meno approfondita. Ma questo è indipendente. Noi abbiamo bisogno di avere un'idea ben chiara anche soltanto di quello che viene definito il rapporto vinti-persi. Quindi, le situazioni che sono state positive per il mio team e quelli che sono stati gli errori e hanno regalato situazioni, diciamo, positive per il mio avversario. Gli ultimi due punti sono altrettanto rilevanti. È ovvio che quando io sono in panchina a giocarmi la gara non sono estraneato dall'emotività. Sono coinvolto e questa situazione può farmi distorcere alcune condizioni all'interno della gara stessa. Non so se vi sia mai capitato, però di certo si dice che si perde di lucidità in certi casi, no? E in certi casi addirittura si arriva ad avere dei pregiudizi inteso nei confronti di un giocatore mio o avversario si attendono a priori delle prestazioni che poi in realtà a livello numerico non si verificano. Oppure al contrario si sottovaluta la prestazione e in realtà la performance del soggetto poi risulta essere determinante ai fini del risultato finale. Quindi tutto questo ha un unico grande target quello di oggettivare di ridurre al minimo la possibilità di interpretare gli accadimenti. Quindi in uno sport di performance dobbiamo semplificare l'analisi delle semplificazioni ci deve dare una serie di elementi scanditi che possono essere di interesse ai fini del esaltare i miei punti di forza e ridurre i miei punti di debolezza per poi ovviamente tendere a una condizione di livello di performance superiore e aumentare le mie possibilità di vittoria. Che cosa si utilizza per fare match analysis? Ovviamente è il livello dipendente. Si passa dalla carta e penna ai software ma non è detto che sia necessario utilizzare qualcosa di livello elettronico a basso livello non è assolutamente in certi casi necessario. Si può tranquillamente lavorare in maniera utile e assolutamente di interesse e proficua semplicemente con carta e penna. poi è logico che in funzione del livello abbiamo di certo una serie di aspetti che sono stati implementati negli ultimi anni. Possiamo pensare a quelle che sono le nuove tecnologie. Ormai credo che tutti voi abbiate visto almeno una volta dei tracciati GPS nel calcio per esempio o nel rugby. ci sono una serie di zone che vengono rimarcate da un colore normalmente più freddo o uno più caldo per far capire dove si gioca di più fondamentalmente. Quindi se la zona evidenziata è più rossa normalmente significa che lì c'è stato più volume di gioco. se la zona tende più al azzurro verde insomma a colori più freddi significa che c'è stato meno volume di gioco. I GPS ci danno per esempio l'intensità degli spostamenti quindi sia la distanza assoluta sia a quale ritmo è stata coperta quella distanza. Oppure ci sono anche delle condizioni molto più diciamo di controllo biomedico a diversi a diversi step di qualità di indagine. Si passa semplicemente dalla classica frequenza cardiaca quindi nel senso già soltanto monitorare la frequenza cardiaca di alcuni atleti durante la prestazione ci dà degli indici si arriva fino a delle situazioni molto 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 di dettaglio che riguardano per esempio idratazione concentrazione di lattato situazioni molto molto di dettaglio queste la cosa che è importante capire fin da subito beh intanto poi logicamente abbiamo una telecamera e vedremo fin da subito che a qualsiasi livello riprendere la performance diventerà determinante per capire e poter fare un cross di quelli che sono i dati rilevati e quello che succede sul campo tante volte questo è un'azione che viene un po' dispersa e invece vedremo che è determinante capire che non c'è soltanto una una questione di rilevare il dato ma bisogna capire anche effettivamente che cosa succede sul campo tutto quello che viene diciamo correlato ai mezzi non è il match analysis quello che è correlato al mezzo è la rilevazione quindi la implementazione dei dati e quella fase di diciamo ricerca di numeri riguardanti tanti aspetti riguardanti diversi livelli di profondità dai quali poi io vado a estrapolare delle condizioni che sono di mio interesse le vado a intrecciare con la telecamera quindi con quello che succede sul campo e da lì desumo che cosa devo fare come mi devo indirizzare ovviamente ripeto livello dipendente e cerchiamo di appunto capire che cosa ci necessita non avere il più alto volume di dati possibili bisogna avere un certo tipo di freddezza nella ricerca dei dati in funzione di quello che è il nostro grado di utilità ma questo poi comunque lo approfondiamo più avanti in questa in questa trattazione quindi abbiamo da subito da fare una grossa distinzione abbiamo un'analisi che è di tipo quantitativo di cui abbiamo detto appena adesso quindi nella rilevazione dei dati abbiamo un'analisi quantitativa che semplicemente significa quanto frequentemente succede un accadimento quante volte succede una cosa quante volte in un campo di calcio corriamo sulla fascia destra quante volte in un campo di pallavolo l'attacco arriva da posto 4 quante volte in un campo di basket tiriamo da 3 dalla zona centrale del campo quindi un'analisi di tipo quantitativo ci descrive un volume di azione che succede in un determinato frangente ma poi c'è un'analisi di tipo qualitativa e che cosa succede? è l'incidenza dell'accadimento ai fini della prestazione quindi c'è un giocatore che in un campo di calcio va sempre sulla fascia destra e mette il pallone in mezzo ogni volta che questo crossa in mezzo un altro giocatore colpisce di testa e c'entra la porta l'accadimento è indipendente dal quantitativo quindi magari scende in realtà non è vero la situazione è ogni volta che questo arriva lì noi abbiamo un pericolo da fronteggiare più quantitativamente questa cosa succede più è alto l'incidenza della pericolosità di quel tipo di azione riportiamolo su un altro esempio campo da pallavolo abbiamo un giocatore che attacca da posto 4 ogni volta che attacca fa punto tanto più attacca tanto fa punto ora questa analisi veramente da super diciamo super basica ci deve dare già un'idea non solo conta quante volte succede qualche cosa ma conta la qualità di quando succede qualche cosa l'accadimento è incidente io potrei avere nei due esempi precedenti un giocatore che va sul fondo a crossare un campo di calcio mille volte ma ogni volta che crossa la palla finisce in tribuna quantitativamente è un'azione incidente qualitativamente non lo è io potrei avere in un campo da pallavolo un attaccante di posto 4 che attacca mille palloni però non fa mai punto quantitativamente l'azione incidente qualitativamente l'azione non lo è alla fine quello che diventa determinante è capire questa condizione questa è la condizione che ci interessa l'azione qualitativa cosa succede in termini effettivi perché questo è l'incidenza ai fini della performance questo può essere sì come no dipende se l'azione in volume alto ha un quantitativo di efficienza molto elevato altresì elevato tante volte questa situazione è correlata perché un'azione che ha un termine positivo viene riproposta nel tempo però non è così scontato capire questa situazione è il primo punto di partenza importante per parlare di match analysis capire che la qualità è quella che fa la differenza la quantità è un dato che deve darmi un campanello d'allarme per iniziare un'analisi più approfondito fino a qua ci siamo mi avete seguito su questo punto perché questo è un punto focale su cui poi si basa tutto il resto dell'andamento della lezione quindi se ci sono dubbi su questa condizione ci fermiamo e lo approfondiamo nuovamente vi è chiaro? mi date un segno? siamo vivi? sì per me è chiaro questo è ok ragazzi se c'è qualcuno che non ha capito per favore anche in chat scriva dica e lo ripetiamo questo è importantissimo tutto chiaro benissimo allora procediamo se qualcuno non ha capito per favore non facciamoci problemi quindi torniamo su quello che è stato il tema iniziale in prestazioni complesse non misurabili in chilogrammi metri secondi c'è necessità di semplificare per valutare l'operato di un giocatore della squadra in assoluto cosa significa chilogrammi metri secondi datemi un po' di esempi di prestazioni in chilogrammi metri secondi che cosa cosa vuol dire prestazioni chilogrammi metri secondi questa è una dizione abbastanza tecnica se vogliamo chilogrammi metri secondi che cos'è uno sport che si misura in chilogrammi metri o secondi dai qualcuno nessuno nessuno si sbilancia dai insomma uno sport che si misura in chili metri secondi o chili o metri o secondi ovviamente non tutti e tre fatemi un esempio con i chili un esempio solo l'atletica ecco l'atletica è un classicone lunghezza del salto sport di prestazione esatto cioè se tu sei eh un uno sprinter vieni valutato in secondi tanto sei più eh sei basso di secondi tanto più sei stato bravo eh tanto lanci il giavellotto esatto brava Cecilia tanto lancio il giavellotto lontano il getto del peso la distanza è lunga tanto sono stato bravo tanti chili sollevo in un'alzata di potenza di weightlifting tanto sono stato bravo ok questo è misurare in chili metri secondi questa cosa qua se ci pensate non è che crea non è che c'è molto da dire molto da fare più è alta o è più bassa la misura e più un giocatore è performante o o o non o no all'interno di una gara ma questo analisi questo tipo di analisi non è correlata a uno sport di situazione perché perché mica ha detto che il calciatore che corre più a lungo all'interno del campo sia stato quello più incidente ai fini della gara non è detto che il saltatore colui che salta più in alto nella pallavolo colpisce più in alto può essere quello che ha fatto più punti non è detto che il tiratore che tira di più nel basket è quello che ha fatto più punti mi sono spiegato quindi abbiamo necessità di andare a fare una semplificazione per valutare l'operato di un giocatore all'interno di una performance più complessa vedremo anche che non sempre non sempre un giocatore che fa più punti ha avuto una performance migliore di un altro questo può sembrare strano ma parlo proprio di strettamente correlato a un discorso di attacco e oggettivamente questa cosa ha un certo tipo di incidenza torniamo al piano di sopra da dove siamo partiti abbiamo parlato di analisi quantitativa e di analisi qualitativa un'analisi quantitativa può essere rappresentata in un campo da pallavolo da alcune situazioni quali possono essere la direzione di attacco preferenziale quindi dove un giocatore tira la direzione di servizio preferenziale la distribuzione in alzata dove questi sono alcuni esempi però diciamo che sono situazioni semplici da capire per capire appunto dove quantitativamente succede qualche cosa come molto banalmente possiamo vederla e vi mostro questo dato insomma questo è un dato reale questa è la mia squadra di quest'anno lasciamo stare in questo momento la parte di sinistra della slide cioè questa parte qui per adesso non la guardiamo l'unico dato che ci interessa è questo qui è un dato numerico n significa numero di colpi guardiamo una una situazione a caso su questa freccia allora vi spiego questo è il campo questa è la linea dei tre metri quella che vedete qua vi sto evidenziando con il cursore rosso questa qui è diciamo la rete ok quindi qui diciamo c'è il campo avversario dove vedete queste frecce e queste frecce rappresentano diversi tipi di diciamo diciamo in realtà sono gruppi di giocatori poi in realtà c'è una dominanza per ogni per ogni giocatore comunque guardiamo un giocatore a caso guardiamo questo giocatore qui il giocatore qui attacca da posto due avversario guardate cosa succede è evidente credo abbastanza evidente dove sia il fascione noi lo chiamiamo il fascione di di traiettorie preferenziali lo vedete che certo che ci sono qualche pallone che finisce più vicino alla parallela no della sua incidenza quindi partendo da posto due tira verso posto cinque ma lo riuscite a vedere questa cosa qui no che è evidente come ci sia una zona in cui il giocatore vada a insistere maggiormente col volume di colpi poi ovvio che ci sono delle condizioni in cui il giocatore ha un ventaglio di colpi perché qui attenzione siamo parliamo di un giocatore che questi sono diciannove colpi diciannove attacchi vedete però che su una ventina di colpi abbiamo una serie di tracciati più insistenti e poi un ventaglio che si apre in maniera più diciamo rada all'interno del campo da gioco però possiamo dire che questo giocatore ha una preferenza vediamo se abbiamo capito verso la parallela quindi verso questa zona qui o verso la diagonale ditemi un po' voi parallela o diagonale non ho sentito scusami la diagonale diagonale mi sembra evidente diagonale questo giocatore qui scusatemi questo giocatore qui parallelo o diagonale secondo voi parallela sarebbe verso questa parte qui diagonale sarebbe verso di qua diagonale square ok se abbiamo poi diciamo una condizione di lavoro per quanto riguarda la zona centrale Marta ma la zona di preferenza dipende dal giocatore o dalle situazioni di gioco o da entrambe da entrambe da entrambe ma lo vediamo più avanti adesso prendiamo pure ti ricordo che in questo momento stiamo guardando soltanto un volume quantitativo che cosa succede con maggior frequenza vi ricordo che qui nessuno ha parlato di punti realizzati o di situazioni stiamo guardando soltanto che cosa succede succede che abbiamo un alto volume di palloni di qua un alto volume palloni di qua e tutti i due palloni vanno verso la condizione di diagonale poi andremo a capire perché succede questa cosa perché è quello che poi ci fa capire cosa dobbiamo fare eventualmente se guardiamo la zona centrale possiamo dire che cosa che abbiamo possiamo dire pari volume o volume paragonabile forse un pochino di più di qua verso posto uno non lo so però diciamo volumi paragonabili su un giocatore che attacca dal centro di certo possiamo dire che i colpi attenzione le linee che sono state tracciate rappresentano proprio il punto dove va a cadere il pallone quindi possiamo dire che i giocatori dai laterali tirano profondo nel campo vedete qui 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 il centrale tira profondo tira più chiuso quindi più vicino alla linea dei tre metri lo vedete possiamo dire che il fascione forse è un pochino più ampio verso posto uno però vedete come il colpo potrebbe essere più chiuso meno profondo vedete che qui ce n'è di più e qua ce n'è di meno qui ce n'è di più e qui non ce n'è praticamente ora attenzione quello che abbiamo guardato in questa condizione non è che altro che un'analisi quantitativa nessuno ha parlato di punti realizzati cioè sappiamo che abbiamo 19 palloni da posto 2 ma non sappiamo quanti punti facciamo abbiamo 26 palloni dalla zona centrale del campo ma non sappiamo quanti punti facciamo e 13 palloni da posto 4 ma non sappiamo che quanti palloni quanti ne vinciamo ok in questo momento ci interessa capire quali sono le linee di tendenza però vi ricordate che vi ho detto avere una condizione di volume non significa capire subito che cosa succede in realtà perché perché su questi 20 palloni potrei fare 0 punti e allora seppure il volume ci direbbe questo giocatore ha 20 palloni gli danno 20 palloni questo giocatore gli ne danno 23 questo giocatore gli ne danno solo 13 però in termini quantitativi abbiamo di qua un volume di gioco più alto ma in termini qualitativi se questi due giocatori fanno 0 punti e questo qui me ne fa 13 su 13 allora capite che la situazione cambia questo è quello che differenzia un discorso di tipo quantitativo da un discorso di tipo qualitativo e per fare un'analisi di tipo qualitativo abbiamo bisogno di una visione effettiva quindi di vedere con una telecamera che cosa succede vi è chiaro questo punto quantità non si parla di che cosa succede si parla soltanto dell'apparizione di un accadimento la qualità è quella che però poi farà la differenza ai fini della prestazione di per sé tutto chiaro fino a qua procedo se c'è dei dubbi parlare ragazzi perché se no ci si perde quantità contro qualità allora dimostro a volte uno no se non guarda con occhio attento non si rende magari conto di quali sono le caratteristiche di un giocatore però ho preso due video tra l'altro quello che vedete è un materiale video che ho fatto io ma parliamo di tanti anni fa quando iniziavo la mia carriera appunto e l'ho preso totalmente a caso non è che sono andato a ricercare qualche cosa per mostrarvi nel dettaglio vedrete da soli che le tendenze si manifestano in maniera chiaramente randomizzata ho preso due giocatori diversi questi sono due centrali e vedete da soli che cosa fanno all'interno del campo inizio ad aprire un primo video questa tra l'altro è la prima partita che ho fatto da rilevatore allora iniziamo a vedere che cosa succede il primo pallone il centrale ha fatto un pallonetto più o meno in questa zona qui poi questo fa un'altra giocata va a giocare dietro e tira sulla diagonale vediamo che cosa succede questa è la stessa partita va indietro ritira la diagonale la palla esce ma avrebbe comunque cercato di tirar sulla diagonale questa prende mezzo nastro non si capisce bene dove sarebbe andata possiamo auspicare però non cerchiamo qualcosa che sia più eclatante diagonale va dietro non si trovano col palleggiatore non funziona qui parliamo di giocatori che comunque fanno la serie A quindi diciamo che hanno un bagaglio tecnico di un certo di un certo livello va a giocare di nuovamente nuovamente avanti e tira verso posto 1 abbiamo visto 5-6 attacchi fino adesso quindi abbiamo una prima linea di tendenza di nuovo gioco davanti di nuovo verso posto 1 ne guardiamo ancora 4-5 non è che stiamo qui tanto a tediarci mezza diagonale su una palla un po' strana impiccata vado avanti in mezzo prova ad andare dall'altra parte forse fa un mezzo pallonetto come il primo pallone però non passa tira prova a tirare di qua verso posto 5 non fa punto ne guardiamo ancora 3 tira verso la diagonale prende la murata prima palla prima palla verso diciamo posto 5 diagonale ultima palla che ci guardiamo finiti cosa succede molto semplicemente il giocatore se si sposta verso dietro beh intanto possiamo dire che il volume di palloni che sono cascati in questa zona di campo è praticamente zero o ha tirato qui o ha tirato un po' più profondo quando giocava davanti mai tirato in maniera incidente o sicuramente forse ha tirato un pallone verso posto 5 e qui parliamo di giocatori di serie A qui un giocatore che comunque non è che non sia capace di tirare qui lo è capace però anche per venire incontro a quella domanda che mi ha mi ha proposto Marta dipende dal giocatore o dalle situazioni di gioco magari dipende anche dal palleggiatore magari dipende anche da come gli viene servito il pallone però il dato è o tira qui quando va dietro o tira più profondo di qua vediamo se questa cosa è reiterata su un altro tipo di giocatore magari è proprio una tendenza questo è un altro giocatore vediamo che cosa succede vi ricordo che quando il pallone andava dietro il giocatore precedente tirava sulla diagonale questo il primo pallone tira sulla linea non so se l'avete visto fa toccare la palla all'avversario e la palla schizza fuori la palla tocca la mano dell'avversario e schizza nuovamente fuori tira una diagonale come ha giocato precedentemente l'altro la sua compagna precedentemente tira la palla sulla linea viene contrastata a muro però avrebbe tirato nuovamente sulla parallela mani fuori di nuovo sulla parallela una mezza diagonale sicuramente meno incidente fa punto provo a fare un pallonetto non va per terra quindi possiamo dire ha fatto tre tre punti sulla parallela due punti sulla diagonale con diciamo tira una buona diagonale ma non va per terra ultima pallone di nuovo mani alta non credo che ci sia bisogno di attenzione ripeto immagini prese totalmente randomizzate dal mio dal mio archivio qui parliamo di giocatori di serie A quindi vedete che fin da subito abbiamo due caratteristiche completamente diverse non è che i giocatori non sanno fare altro perché ripeto siamo a livello questa squadra qui ha fatto la promozione tra la 2 e la 1 tra l'altro quindi siamo diciamo siamo ai margini del livello assoluto però cosa succede? succede che il giocatore il primo giocatore che abbiamo visto quando andava dietro tirava sulla diagonale mai tirato sulla parallela se non una volta quando andava a giocare davanti tirava verso posto 1 mai andato verso posto 5 il giocatore 2 ha fatto esattamente il contrario molto sulla parallela qualche volta è andato anche sulla diagonale ma è evidente che tante più volte ha provato ad andare sulla riga e soprattutto ogni volta che andava sulla riga ogni volta no ma in maniera diciamo incidente faceva toccare la palla al muro avversario e faceva punto in diciamo qualche minuto ovviamente ripeto voi potete pensare che io ho messo queste cose per dire deve rinforzare delle situazioni ma in realtà se voi volete farvi la vostra analisi guardatevi una partita e vi renderete conto se la guardate con un occhio minimo attento capirete subito che se metti in fila gli stessi attacchi di un giocatore più o meno le zone che vengono colpite sono sempre quelle un po' dipendente dalle caratteristiche del giocatore stesso un po' dipendente dall'interazione con il proprio il proprio palleggiatore vediamo un po' un'altra condizione di un laterale prima palla adesso guardiamo da questa palla il giocatore va su tira verso la diagonale tocca il muro la palla esce fuori il giocatore del laterale palla morbida pallonetto chiamiamola un po' così una palla un po' smorzata palla della seconda linea altro tipo di attacco va verso posto 5 torniamo su palla del laterale diagonale diagonale pallonettino di nuovo in mezzo al campo dalla seconda linea pallonetto in mezzo al campo questo giocatore è un giocatore che ha fatto ha vinto gli europei qui va sopra gli fa un money out si chiama quindi gli fa toccare la palla all'avversario e gli fa schizzare la palla fuori diagonale diagonale non occorre penso andare oltre abbiamo un giocatore caratteristiche molto 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 incidenti cosa significa? significa che non è che sapere dove tira sia indice della possibilità di poterlo come dire per forza contrastare o limitare però sicuramente ti dà un'idea di che cosa si può fare però vedete subito come non è che questi giocatori non sono capaci a fare altri però hanno una tendenza soltanto che quando tu osservi una partita e gli attacchi avvengono in maniera randomizzata quindi cosa significa? significa che non è che attacca cento volte lo stesso attaccante attaccheranno in maniera diciamo dilattata due o tre volte lo stesso due o tre volte un giocatore poi distribuirà un altro giocatore un altro giocatore ancora il punto è i giocatori hanno delle preferenzialità non significa che sanno fare solo quello però come potete vedere abbiamo un'indicazione di che cosa sanno fare? nel primo caso il centrale da dietro tirare sulla diagonale il secondo il centrale tirare sulla parallela il questo giocatore è un diagonalista oppure fa il pallonetto difficilmente va sulla parallela a tirare ora questa condizione non significa che non sanno fare altro per l'appunto e non significa neanche che quell'azione sarà determinata perché come ci siamo già anche detto possiamo avere un alto volume di gioco di un tipo di giocatore che però non è incidente non fa mai punto o perché lo limitiamo molto bene o perché in quel dato giorno ha una una situazione che non ha una grande fiducia nei suoi mezzi e non segna cioè non segna non marca stessa cosa o perlomeno o addirittura in maniera ancora più evidente appare al servizio secondo voi ragionando ragionando anche su quella che è stata la domanda che poc'anzi aveva scritto Marta in chat quindi se la zona di preferenza dipende dal giocatore o dalle situazioni di gioco o da entrambi secondo voi in battuta questa cosa è più accentuata o si riduce cioè quindi un giocatore in battuta ha la tendenza ad essere più incisivo su una zona o in un'altra qui vedete già dei dati e forse potete anche intuirlo a priori però il punto è secondo voi perché se riuscite a ragionarci questa cosa avviene in maniera più importante avete capito intendo dire succede di più che un battitore batta sempre nelle stesse zone o batta a caso o batta dappertutto in maniera ripartita con costanza secondo voi ripeto qui avete già dei dati ma soprattutto e capire il perché questa cosa secondo voi potrebbe essere determinata qualcuno succede di più succede di meno che vadano negli stessi posti che succeda di più mi sembra o perlomeno uguale guardate un po' solitamente si cerca un giocatore dipende può essere una visione solitamente sì diciamo che a basso livello tendenzialmente si va a cercare il ricevitore peggiore ad alto livello è molto più dipendente da quanto io sono bravo a essere incisivo col servizio però ci sarà una zona secondo voi dove i giocatori sono più portati a battere o meno e se sì perché beh potete vedere già dei dati per detto guardate questo giocatore qui che tra l'altro è stato anche un mio giocatore vedete 45% batte in posto 6 45% batte in posto 1 10% batte in posto 5 questo significa che 9 palloni su 10 questa è la zona da dove vedete il rilevatore ha messo da dove parte il servizio parte da qui significa che 9 volte su 10 45% più 45% fa 90% 9 volte su 10 il pallone finisce o qui o qui 9 volte su 10 quindi capite che questa questo accadimento in questo caso abbiamo per esempio una situazione completamente rovesciata guardate qui hai un giocatore che o colpisce in maniera 6 volte su 10 posto 5 da posto 5 3 volte su 10 posto 1 da posto 5 e via dicendo qui abbiamo un giocatore che colpisce 2 volte su 3 in mezzo al campo una volta su 3 a in posto 5 vedete come forse questo è un giocatore che batte un po' più randomizzato ma non c'è giocatore che fa 33 33 33 e soprattutto qui siamo ancora su un'analisi di tipo quantitativo quindi quante volte succede un caso un qualcosa bisogna poi valutare se quel 33 33 33 che già non si verifica ha la qualità intrinseca all'interno dei suoi colpi quindi fa un punto un punto un punto sulle tre zone di campo di ricezione oppure fa solo punto da una parte e dall'altra parte riesci soltanto a centrare la zona avere un giocatore che è in grado di fare punto in maniera diciamo incidente in tutte le zone del campo sia dalla linea del servizio sia dalla linea d'attacco è un giocatore che francamente fa assolutamente una enorme differenza e ce n'è pochissimi al mondo quasi tutti i giocatori hanno delle linee di tendenza il fatto che il servizio abbia anche delle spiccate percentuali di zona di impatto è dettato dal fatto che si va decisamente sulla preferenza quindi ogni giocatore ha la sua zona di preferenza dove vuole andare a colpire ma soprattutto riduco quelle che sono le interazioni come diceva Marta Pocanzi delle situazioni di gioco perché perché il lancio me lo faccio io non è che mi alzano il pallone il lancio me lo faccio cioè qui parliamo sempre non nessuno batte piedi a terra a medio alto livello quasi tutti battono in salto che sia salto flotto salto spin l'abbiamo visto in una lezione precedente quindi cosa succede mi lancio il pallone e vado a fare l'azione che mi è più preferenziale non ho più l'incidenza come abbiamo visto magari anche precedentemente dove su una palla mal alzata mi devo arrangiare buttare la palla di no faccio io quindi ancora di più andiamo su percentuali spiccate si va sempre di più su azioni che possono essere determinanti in un certo tipo di zona di campo ripeto quantitativamente sul volume di accadimento e se guardiamo un giocatore che batte questo giocatore è un buonissimo battitore per la categoria ha fatto già questo è the best of sono le migliori battute per far vedere qual è l'incidenza di servizio del giocatore stesso vedete che ha o questa palla molto molto profonda su posto 1 oppure ha questa palla linea su linea in posto 5 in posto 5 questa possiamo dire che è un over spike posto 1 e addirittura posto 6 un pochino zona un po' centrale 5-6 uguale linea su linea questo è un giocatore forte vero cioè al servizio riesce a battere con grande incidenza nella zona di interesse capisci capite che questa è un'unica partita tra l'altro sta colpendo diciamo in maniera importante questa zona del campo qui e poi tutta la parte di destra poche volte puramente sulla linea di sinistra ha colpito sempre un arco che va da questa zona qui dove colpisce in questo caso il giocatore in ricezione a una zona che va fino a destra poi vedete che però è un giocatore forte quindi tira anche nelle condizioni dove può anche andare su un ventaglio più ampio però purtroppo bisogna andare su una linea di tendenza quindi quando tu sei di fronte a un giocatore forte succede che il guardiamo anche questo via questo è un battitore più debole e si vede fin da subito linea su linea qui il giocatore vedete che si lancia la palla e si arrangia tra virgolette quindi può scegliere di fare quello che vuole potrebbe tranquillamente battere verso posto 5 è vero che magari ci sono delle indicazioni di tipo tattica di colpire un giocatore piuttosto che un altro però sul lungo andare anche su altre questa è un'altra partita qui per esempio si è andato verso posto 1 probabilmente potrebbe anche essere che il giocatore possa essere incisivo o un buon battitore di precisione sopra la linea che gli interessa potrebbe anche essere però vedete che rispetto a prima i punti diretti sono molto 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 di meno c'entra la zona ha caratteristiche diverse seppur possa centrare la zona vedete che come volume la palla va un po' di più verso posto 5 possiamo dire che va anche verso posto 1 ma diciamo che come grande volume abbiamo questa metà campo oppure decisamente un pochino più cadente qui mai lungo fondo campo vi ricordo che il campo è 81 metri quadri quindi insomma è grande però se vedete già quanti punti diretti ha fatto rispetto al battitore di prima è decisamente un battitore più debole palla diciamo strana verso posto 6 che va un po' contro quelle che sono le tendenze però poi insomma ripeto ha diciamo queste due grandi caratteristiche ribadisco il concetto siamo su un discorso di tipo quantitativo guardare per capire che cosa succede questo è il foglio tattico vero nostro questo è un foglio tattico corretto diviso per rotazioni leggete che c'è scritto p1 p6 p5 e via dicendo con quelle che sono le tendenze con degli angoloni disegnati e il colore rosso blu e giallo va a determinare quanto quanto volume di gioco vali tutto qui niente di di che è una situazione chiaramente arbitraria non è stessa cosa un dettaglio di quelle che sono le condizioni ogni giocatore ha una tendenza guardare il quantitativo di palloni è soltanto un punto di inizio bisogna poi cercare di capire quando ha diciamo ha una situazione quantitativa corrisponde anche un'azione qualitativa quindi l'analisi di quantitativa dà una prevedibilità di un evento ma non descrive l'incidenza dello stesso ai fini di risultato del finale della gara quindi noi abbiamo visto soltanto più o meno dove tirano preferenzialmente i giocatori però quello che ci interessa è l'analisi di tipo qualitativo e questa è una cosa che abbiamo già visto in precedenza abbiamo visto che ci sono dei dati che ci danno delle diciamo tendenze dobbiamo capire come poter valutare queste tendenze per sapere qualitativamente che cosa sta facendo un mio giocatore avevamo visto che in ricezione per esempio ci sono delle zone in cui arriva il pallone dopo aver fatto l'azione di di bagger o comunque dopo essersi opposti al servizio avversario che determinano un diverso peso all'interno dell'analisi stessa ad ogni azione viene valutata appunto con un diciamo un simbolo chiaramente sono ormai abbastanza standardizzati però ad ogni simbolo corrisponde una determinata e rilevante azione che è accaduta nel caso della ricezione abbiamo quello che viene chiamato il doppio più che è una ricezione di tipo perfetto che permette l'organizzazione di tutte le operazioni di attacco da parte del palleggiatore senza farlo muovere vedete un po' zona del doppio più quindi la palla rimbalza sul ricevitore finisce qui la ricezione viene chiamata doppio più ricezione perfetta abbiamo una ricezione di tipo positivo che permette deve spostarsi leggermente però permette ancora l'organizzazione di tutte le operazioni di attacco allora si parla di opzioni di attacco perché tanto più la palla si stacca dalla rete tanto più il palleggiatore farà difficoltà a servire in particolare i centrali perché i giochi dei centrali che sono più veloci più sincronizzati e hanno bisogno di una maggior diciamo intesa tra i due giocatori non possono più essere giocati quindi diciamo che le azioni che permettono di avere un gioco con i centrali permettono di avere maggiori opzioni d'attacco e quindi abbiamo vengono premiate con dei valori più alti fondamentalmente quindi una ricezione perfetta una ricezione positiva sono premiati con valore più alto perché perché permettono di giocare ancora con i centrali di avere tutte le opzioni d'attacco e vedete che appunto abbiamo una zona un po' più larga che quella correlata dalla zona della ricezione più abbiamo poi guardate un po' un quadratone ancora più grande che si chiama ricezione del punto esclamativo che cosa corrisponde? la ricezione è a cavallo della linea dei tre metri però può essere ancora gestita col palleggio quindi seppure si stacchi un pochettino quindi mi manda cioè la parabola finisce in questa zona un po' più grande rossa però è sufficientemente alta per far sì che il palleggiatore possa ancora lavorare con la distribuzione soltanto col palleggio abbiamo poi una ricezione che è negativa che obbliga la squadra all'uscita di palla alta senza schema quindi torniamo sul nostro campo ogni volta che una ricezione schizza in mezzo al campo e il palleggiatore deve correre oppure un altro giocatore interviene per alzare o in palleggio in bagger dove ci permette soltanto di lavorare su una palla alta in posto 4 in posto 2 con il palleggiatore addirittura in bagger oppure a un altro giocatore significa che viene segnata una ricezione con segno meno se la palla ritorna nel campo del battitore si segna una ricezione con la slash se c'è un errore quindi se prendo un ace il ricevitore viene segnato con un'azione di meno meno ovviamente tutte queste azioni vengono segnate in relazione a un giocatore quindi si segna il numero del giocatore il fondamentale diciamo che per la ricezione viene abbreviato con una r e il peso relativo il cancelletto per la perfetta il più per la positiva e via dicendo in funzione di che cosa è successo palla per palla e abbiamo una correlazione per quanto riguarda il servizio stessa cosa se il servizio fa punto è un servizio dopo più se il servizio fa ritornare la palla nel campo del battitore è un servizio slash se costringe la squadra una ricezione che manda in giro il palleggiatore per il proprio campo senza poter poi più giocare con i centrali è una battuta di tipo più gestione del pallone in ricezione cioè il palleggiatore può ancora palleggiare a cavallo della linea dei tre metri è un servizio punto esclamativo il servizio meno permette la costruzione di un'azione con tutte le opzioni e poi c'è l'errore in battuta che fa meno meno anche in questo caso cosa si fa si segna il giocatore numero x numero 5 che va in battuta verso posto che batte diciamo una battuta che sbaglia batte in rete viene segnato con un s che sta per servizio meno meno c'è una corrispondenza tra battuta e ricezione in termini di pesi e qui vi ho messo che cosa corrisponde quindi cosa significa se il battitore della squadra A fa un ace sulla squadra B il battitore numero x 5 della squadra A avrà un s più più e corrisponderà una ricezione meno meno alla squadra avversaria se il battitore fa una battuta più corrisponderà una rice meno nella squadra avversaria e così via in correlazione dei vari dati dei vari fondamentali torniamo a guardarci un attimo il video e vediamo di capire che cosa significa a questo punto non si guarda più soltanto che cosa succede qui il battitore batte e fa punto il battitore è il numero uno quindi avrà uno il numero del battitore S servizio col cancelletto più più il ricevitore è il numero due non ha preso il pallone vuol dire che la ricezione è sbagliata e quindi avremo un due quest'altra squadra va il due ricezione meno meno ops scusate dicevamo battuta punto battitore numero uno ricezione due meno meno va in battuta uguale qui avremo un'altra battita battuta del numero uno più più quella col cancelletto il numero del corrispondente ricevitore che non possiamo vedere r meno meno vedete cosa succede qua il ricevitore è il numero nove la battuta manda in giro la ricezione la ricezione non può essere gestita dal palleggiatore che è quello che vi sto indicando è un compagno che interviene questa battuta viene chiamata battuta più con una ricezione meno se guardate questa cosa qui guardate se torniamo di qua dai coraggio se torniamo di qua battuta più ricezione meno cosa succede quando io batto più abbiamo una ricezione meno il battitore della squadra batte bene io ricevo male questa è una correlazione e battuta più il servizio costringe la squadra in ricezione ad un'unica uscita d'attacco palla alta ricezione meno obbliga la squadra all'uscita di palla alta no schema ok abbiamo sempre una correlazione tra i due fondamentali azione per azione viene segnato che cosa succede quindi non c'è più solo un'analisi di tipo quante volte succede ma anche che cosa succede è ovvio che se io batto e faccio sempre punto quell'azione ha un peso all'interno della prestazione molto più elevata rispetto a un'azione in cui la palla finisce solamente lì quindi l'azione qualitativa va valutata come abbiamo fatto con questi pesi e la stessa cosa si fa con l'attacco per esempio abbiamo un attacco doppio più che equivale a un attacco punto un attacco più attacco che costringe la squadra di difesa a non poter organizzare il contrattacco e via dicendo l'esclamativo è quello che succede l'attacco meno e che cosa succede ogni simbolo viene correlato a un accadimento più semplice per poter valutare oggettivamente che cosa è successo sul campo da gioco quindi non soltanto più che cosa succede sulla zona che viene colpita ma anche cosa accade a livello di punteggio quindi non soltanto se la palla è andata là ma anche come è andata siamo partiti da un'idea quantitativa cioè da quante cose succedono all'interno del campo da gioco ha un'idea qualitativa l'idea qualitativa cosa si fa si guarda azione per azione e ci si segna come è stata valutata ovvio che se parliamo di livello alto o medio alto ho bisogno di maggior volume di dati a livello più basso è sufficiente capire più o meno che cosa succede perché perché le variabili in gioco si ridurranno perché la gestione qualitativa dei colpi sarà inferiore e via dicendo però logicamente noi dobbiamo avere la capacità di comprendere come si analizza in maniera prettamente numerica una prestazione che non è in chili metri secondi e come faccio faccio l'analisi delle cose più semplici e gli do un dato diciamo simbolo che mi rimanda a un'azione io conosco le varie azioni in gioco nel nostro caso servizio che abbiamo visto adesso sono ricezione servizio e attacca e correlo il peso di quella che è l'azione che si è venuta a compiere quindi pesare è fondamentale quindi dargli un dato e il modo per capire quale sia la tendenza di una data situazione quindi non soltanto se il pallone va in posto 4 ma se da quel pallone scaturisce un punto per i nostri avversari e da questo peso nascono due condizioni nasce una condizione di strategia quindi voler sfruttare una propria peculiarità o limitarne un'avversaria quindi è una situazione di tipo univoco quindi la mia strategia è far attaccare di più l'attaccante di posto 4 perché fa un sacco di volte punto quella è la mia strategia è una strategia univoca oppure ho una strategia nei confronti dell'avversario dove gioco contro un attaccante di posto 4 che io voglio assolutamente limitare queste sono strategie la tattica invece è il processo che metto in atto per rendere effettivo sul campo quello che è previsto dalla mia strategia e può essere di diverso tipo che cosa posso fare facciamo finta che io voglio limitare un loro attaccante di posto 4 io potrei mettere il muro più alto che ho di fronte all'attaccante più pericoloso disporre una difesa più diciamo densa in termini di giocatori su una zona di campo che l'attaccante in via preferenziale va a colpire come abbiamo visto e io mi faccio già trovare pronto lì per difendere il pallone quella è la tattica non importa l'azione che io faccio conta il processo che metto in atto per far sì che quell'accadimento avvenga ok quindi strategia e voler sfruttare o una propria peculiarità o limitarne quella di un'altra la tattica è che cosa faccio per far sì che quella cosa accada questa cosa ovviamente è dipendente anche da quello che so fare io se sono molto forte a muro magari vado cerco di mettere il muro più alto se invece sono piccolino magari mi metto in difesa e cerco di farmi colpire nelle zone preferenziali in cui l'attaccante statisticamente tira di più queste sono cose diverse strategia e tattica ma per poterle mettere in opera io devo capire qualitativamente e quantitativamente che cosa succede ci siamo sulla differenza tra strategia e tattica è chiaro quale è la differenza è come se si parlasse di teoria pratica sì in realtà diciamo di sì anche se poi la strategia è intesa come sì diciamo che può essere un'idea miriana però il punto è proprio molto semplice la strategia è quella cosa che tu pensi che ti possa far vincere e allora cosa fai? cerco di farla accadere più volte possibile no? e come faccio a far sì che questa cosa possa accadere più volte possibile? e dovrò mettere dovrò cercare di far sì che la mia squadra si ritrovi in quella situazione più volte perché? perché se riesco a metterla più volte in opera questa situazione probabilmente succede di più è il processo spostiamolo su un discorso magari più facile sul battitore se io ho un battitore forte cosa succede? posso battere o all'inizio del set ho la possibilità di battere subito io quindi cosa faccio? vinco la palla al sorteggio il mio battitore migliore lo metto in posto 1 incomincia e batte subito quindi cosa succede? ogni volta che la mia squadra gira piano piano batte finisce il suo primo turno di servizio dovrà girare in posto 6 posto 5 posto 4 posto 3 posto 2 poi ritornare di nuovo al servizio quindi se batto io per primo voglio farlo battere di più cosa faccio? lo metto subito al servizio perché ogni volta che ritornerà in posto 1 potrà battere se però io e questa cosa è una cosa che discrimino io allenatore parto con quel giocatore invece che in posto 1 in posto 6 prima che vada a battere bisognerà che faccia tutto il giro e quindi cosa succede? dovrà passare da posto 5 posto 4 posto 3 posto 2 per andare in battuta questa cosa cosa determina? che all'interno del del set o della partita tu non è che tutti i giocatori vanno lo stesso numero di volte al servizio a un certo punto il set finisce dove sei? sei magari finisci in posto 3 e non è che sei di nuovo al servizio partire immediatamente con quel giocatore può essere un'idea per dire ok se batto io parto subito battendo con il mio battitore migliore da posto 1 se invece parto io in ricezione quindi battono gli altri parto col giocatore in posto 2 magari perché? perché appena faccio il cambio palla quindi riprendo io la possibilità di servire il mio battitore migliore andrà a battere non so se mi sono riuscito a spiegare da questo punto di vista mi date un cenno? io ho capito ok perfetto 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 benissimo benissimo molto bene questa è la differenza che c'è tra strategia e tattica cercare di mettere più volume di gioco su una condizione che mi favorisce se per qualcuno non è chiaro lo dica che cerchiamo di fare altri esempi per spiegarlo però l'obiettivo è questo cercare di far accadere una cosa il più elevato numero di volte possibile e la tattica è il processo che metto in opera per mettere diciamo questa cosa in in campo ora vi mostro un'altra cosa sempre salendo del livello vi ricordo che come vi dicevo queste cose qui le ho prese totalmente randomizzate da quello che è il mio archivio vi mostro che cosa succede rotazione per rotazione ci guardiamo una rotazione e capite che cosa intendo vedete che qui lo studio del della gara cerca di farci vedere che cosa succede in P1 guardate cosa succede guardate due cose anzi guardate dove va l'attaccante centrale quello che vi indico e dove va il pallone il pallone è in mano al palleggiatore il centrale va davanti l'attaccante è quello di posto 2 questo è un A più 1 di nuovo il centrale va davanti e il pallone va verso posto 2 qui tra l'altro uccide l'arbitro ancora il centrale va davanti e gli dà la palla il centrale va davanti e la palla va dietro altra partita qui il centrale va dietro palla sempre in posto 2 centrale va davanti palla va in posto 2 credo che non ci sia altro da aggiungere quante volte avete visto il pallone andare tipo in posto 4 mai mai cioè questa cosa però se non l'analizzi a secco quindi guardando che cosa succede con un occhio attento va dispersa perché perché come vi dicevo c'è una rotazione non è che giochi sempre quell'azione lì però tutte le volte che il giocatore si ritrovava sulla più 1 quindi col palleggiatore in posto 1 succedeva quell'azione lì cosa succedeva o il giocatore il centrale va per avanti e la palla va dietro oppure dava la palla al centrale ma è palla in posto 4 cosa posso fare io lì o metto il difensore sulle traiettorie preferenziali o metto il muro da quella parte lì però la situazione è determinata cioè si vede in maniera chiara qual è la tendenza dell'accadimento in quel tipo di frangente sulla più 1 avversari la palla va tra il centrale e il posto 2 ma è in posto 4 io se riesco a guardare vedere queste situazioni organizzo la mia squadra quindi strategia strategia avversaria è faccio attaccare da posto 2 tattica mia come faccio a limitare la loro strategia metto il muro davanti metto il difensore migliore che ho sulla traiettoria più importante queste situazioni sono però abbastanza reiterate ma non parlo soltanto della pallavolo parlo in generale nello sport il problema è che essendo che sono randomizzate all'interno del tempo di gara non sempre riesci a coglierle devi guardare un volume di azioni riguardanti quella specifica condizione e allora puoi rendertene conto e vi ripeto non è che questo è il primo video che ho preso stamattina proprio ieri sera non è che sono andato a cercare la situazione la situazione è così e se vi prendete il tra virgolette il mal di pancia di guardarvi una gara e segnarvi su un foglio di carta rotazione per rotazione dove finisce il pallone vi rendete conto che questa cosa succede ma con costanza con costanza quindi logicamente se io la riesco a organizzare e prevedere posso cercare di limitarla è ovvio che poi il resto è giocare non è che basta sapere dove va il pallone ed è indice del fatto che io potrò contrastarlo in maniera positiva però di certo mi limita il ventaglio di opportunità di accadimenti e posso cercare di confinare di più il problema abbiamo qui una serie di situazioni che vengono analizzate sia in termini qualitativi e in termini quantitativi per capire ci siamo detti che il termine in termini quantitativi è un grado di incidenza i termini qualitativi sono quelli che fanno la differenza perché perché se hanno un'incidenza positiva molto alta probabilmente è una situazione che io devo attenzionare in maniera più diciamo prioritaria e andiamo a vedere l'ultima cosa per quanto riguarda la valutazione qualitativa di un giocatore abbiamo questa cosa da capire come ultimo concetto di giornata abbiamo la differenza tra positività e l'efficienza ora ci siamo detti che possiamo avere un volume di gioco su un tal giocatore abbiamo possibilità di valutare colpo per colpo tutte le situazioni quindi parliamo di attacco per esempio posso valutare ogni colpo di attacco del mio giocatore in funzione di quello che è l'esito dell'azione segnerò con il mio simbolino la condizione che mi interessa quindi se l'attacco è stato doppio più segnerò un cancelletto se l'attacco è stato un errore segnerò un doppio meno e via dicendo per tutti i colpi che abbiamo che cos'è la positività la positività è la percentuale matematica tra i colpi effettuati quindi il volume di gioco e i punti realizzati poi vi porto un esempio perché così almeno lo capiamo meno l'efficienza e la percentuale matematica tra i punti effettuati e i punti tra i colpi effettuati e i punti realizzati quindi positività al netto degli errori commessi quindi portiamo un esempio che vi ho scritto qua un attaccante fa 10 schiacciate e realizza 5 punti la positività è 10 sta a 5 quindi volume di colpi sta al volume di punti come 100% sta alla percentuale che sto cercando risolvo questa proporzione in maniera molto semplice e ritrovo che è il 50% ok 50% di positività però questo questo dato ci dà indicazione unicamente sui palloni che sono andati per terra sui palloni che sono stati realizzati e convertiti in punto non ci dà indicazione sui rimanenti tentativi non andati a segno noi non sappiamo che cosa è successo in questo diciamo dato sappiamo che un pallone su due lui ha fatto punto ma non sappiamo che cosa ha fatto degli altri 5 palloni per quello c'è l'efficienza se negli altri 5 attacchi quindi abbiamo detto fatto 5 attacchi e 5 punti un pallone si un pallone no ha fatto punto cosa succede negli altri 5 attacchi se negli altri 5 attacchi il giocatore avesse fatto 3 errori facendo la proporzione che cosa succede facciamo 3 errori sul volume di colpi come come prima alla ricerca della percentuale sulla proporzione quindi abbiamo che 3 su 10 è il 30% di errore questo dato del 30% è da sottrarre alla positività quindi scusatemi quindi il giocatore che ha 50% di positività se ha il 30% di errori si ritrova con il 20% di efficienza mi avete seguito? lo vedete? perché? perché significa che ho fatto 5 punti per la mia squadra ma ne ho fatti anche 3 per la squadra avversaria il differenziale 20 persi è di più 2 20% infatti sottraggo il percentile di error rispetto al percentile di positività avete capito questa condizione? la differenza tra efficienza e positività? l'avete chiara questa cosa questa cosa qui sarà oggetto d'esame nel 90% dei casi quindi ben chiara in testa saper fare calcolare positività o efficienza sarà oggetto di esame ok? se qualcosa non è chiaro parlare tutto a posto? una cosa ma quindi in questo caso ho il 20% di efficienza giusto? corretto corretto tu sottrai sottrai il dato dell'efficienza tu praticamente qui calcoli la percentuale di errore e la sottrai alla positività quindi 50% o meno 30 20% di efficienza ok? o rapporto 20x si viene anche chiamato ma noi lo chiameremo efficienza capite che questa cosa qui è la è il punto focale perché non conta quando vi dicevo non conta quanti punti fai conta l'efficienza che hai perché perché se io tanto per ogni punto che faccio poi ne faccio un punto per gli altri l'efficienza si abbassa ok? quindi per ogni azione è come se tu nel calcio facessi a ogni gol che fai corrisponde un autogol e non importa se ne fai tre se poi fai due autogol il differenziale sarà sempre uno questo è un po' il principio ok? questa è una cosa che bisogna avere chiaro quindi per tirare le somme abbiamo finito anche per oggi dobbiamo ricordarci che c'è un volume quantitativo un volume quantitativo di accadimenti che però è di interesse soltanto se e solo se ha un'incidenza di tipo qualitativo quindi prima devo capire se un accadimento è molto frequente e in che in grado di incidenza qualitativa ha posso avere percentuali di efficienza molto alte in certe situazioni ma con volumi molto bassi la situazione potrebbe non essere di interesse il problema è quando hai tanto volume con un'alta efficienza perché quantità e qualità sono alte di tale accadimento quindi su quell'azione si può muovere il risultato finale della gara che cosa succede quindi lì parte un discorso di strategia loro avversari proveranno a far succedere quella cosa più volte io cercherò di limitare come faccio con la tattica come valutiamo la qualità con dando il peso ad ogni singolo accadimento cerchiamo di rendere una cosa più complessa una cosa più semplice come valutiamo la prestazione in termini di positiva efficienza abbiamo appena visto ok lo schema è un po' quello logico che l'indagine deve essere tanto più approfondita tanto più alto e il livello in cui ci stiamo andando a rapportare e in realtà poi a fronte di tutti questi bei numeroni la cosa che conta sempre è interpolarli quello che ci siamo già detti l'altra settimana avere quella capacità di capire dove sta la discriminante dove sta la capacità mia in questa analisi di dire ok questo è il dato che mi fa vincere o mi fa perdere tanto più sei bravo a trovare quel dato tanto più sarei un tecnico di alto livello questo è il punto per tirare le somme finali quando si fa match analysis la chiave è quella di trovare delle costanti di gioco da parte della squadra o di un singolo in modo da determinare il loro stile di gioco ed essere preparati tradotto capire qual è la loro strategia e organizzare la mia tattica le conclusioni prima cosa importantissima il match analysis è uno strumento non deve diventare una gabbie non dobbiamo diventare schiavi del numero e basta cioè ci sono è una linea di tendenza non dobbiamo essere però ciechi e guardare solo più quelle cose lì perché si arriva anche a quelli estremi il grado di analisi deve essere legato a doppio filo in relazione al livello della prestazione della squadra è inutile che vado a valutare ogni minimo dettaglio tattico cioè per dirti è inutile che vado a organizzare una strategia di muro se ho una squadra altra 1,60 per intendersi quindi se oppure è inutile che andiamo a guardare i dettagli delle distribuzioni se poi non riusciamo a organizzare un'azione di trattocchi questo è il punto deve essere tutto correlato deve essere tanto più si abbassa il livello tanto più il volume di lavoro deve essere dedicato ad altro tanto più si alza il livello tanto più anche questa incidenza di quelli che vengono definiti marginal gains avrà un'incidenza importante correlare sempre dati e video non ci fermiamo unicamente a un'analisi di numeri perché perché il campo quello che succede che che dà dimostrazione di che cosa succede bisogna capire il momento bisogna sapere e questo come si fa con il lavoro con la come dire la l'esperienza ecco mettiamola così e ricordiamoci sempre che il match analysis ti porta a giocare i punti decisivi poi da lì in poi dai la palla al tuo giocatore migliore questo te lo insegna la storia del mondo questo è quello che conta cioè logico che devo capire il momento devo capire ovviamente con un giocatore migliore non parlo del migliore in assoluto ma è migliore in quel momento senza altro quello più in palla quello più determinato che magari è proprio per quella giornata lì però di certo questo è un è un dato di fatto cioè si dà si arriva fin lì con lo studio la tattica la strategia però poi quando si arriva lì si va sulla sensibilità ritorniamo a lavorare con diciamo le emozioni la situazionalità il momento e questa è la conclusione che faccio sempre quando parlo di match analysis nessun piano di battaglia sopravvive all'impatto con il nemico non l'ho detto io ovviamente quindi cosa significa? significa leghiamoci e cerchiamo di strutturare quello che è il nostro lavoro ma altresì ricordiamoci che non è la Bibbia non è di certo la Bibbia ok? è uno strumento che ci deve aiutare a confrontarci su questo tipo di di discorso va bene se ci sono delle domande e dei dubbi per prestità sono a disposizione per chi è più avvezzo allo sport alla pallavolo probabilmente questa è una cosa un po' più facile per chi non lo è richiederà un pochino più di sforzo ma di certo ci offre metodo noi ricordatevi sempre che facciamo parte di una facoltà di tipo scientifico dobbiamo lavorare con un metodo e il metodo implica avere qualcosa che sia come dire univoca poi è normale che come ci siamo detti è una situazione di interpolazione dove la sensibilità del tecnico viene fuori però il metodo di base ci deve essere ok? questa è la la condizione di per sé se vi guardate una partita ma anche piccoli scambi un piccolo periodo di tempo e avete occasione iniziate a guardarla con quest'altro tipo di consapevolezza cioè cercando di rimarcare e rivedere che cosa succede all'interno del campo da gioco ma non come un semplice osservatore passivo tra virgolette ma in maniera un pochino più attiva e cercare di rimarcare quello che ci siamo visti adesso cioè prendere consapevolezza del fatto che poi ovviamente più si alza il livello più le variabili vengono vengono diciamo accentuate però di certo ci sono delle linee di tendenza che possono essere ritrovate a qualsiasi grado livello a livello assoluto olimpionico mondiale e via dicendo se non c'è altro se non abbiamo altre cose da dirci io vi congederei se invece qualcuno ha delle domande sono a disposizione riguardatevi la call riguardatevi questo materiale e in ogni caso eventualmente ci aggiorniamo e rinfreschiamo alcune cose che potrebbero magari restare poco piano posso fare una domanda sì volevo chiedere secondo lei nel al netto di un campionato per vincere un campionato per vincere qualcosa a lungo termine quindi è più importante avere i giocatori migliori o avere la strategia migliore è un'ottima domanda è un'ottima domanda forse al netto allora facciamo facciamo un discorso più leggermente più ampio se tu hai una squadra forte e non è organizzata perdi non sempre vince la squadra più forte a volte vince la squadra più brava però questa cosa qui è ovvio che ti determina in funzione del margine differenziale tra squadre avversari se tu sei talmente più forte è logico che un una un gruppo più forte ha più probabilità di di vince ti posso dire con certezza però e con certezza di 15 anni di carriera a un certo tipo di diciamo di livello diciamo nazionale medio livello che se tu vuoi vincere un campionato quindi sul lungo periodo tu devi avere un gruppo nel caso specifico se tu fai un campionato di serie B di calcio di pallavolo A2 di basket di A2 se tu vuoi vincere un torneo e vuoi esserne sicuro di vincerlo devi avere tutta la rosa della categoria superiore non ti bastano 6 giocatori di categoria superiore non bastano a quel punto lì possono bastare se interviene un'organizzazione questo te lo garantisco perché perché sul lungo periodo a volte si vince il più bravo non vince il più forte certo che se sei più forte è un bel aiuto c'è un una vecchia massima di Giampaolo Montali che dice che puoi insegnare ad un tacchino ad arrampicarsi su un albero però se mi dai uno scogliato lo faccio prima ho risposto un po' alla tua domanda? sì sì grazie questo è poi si va poi caso per caso e commettiamola così adesso ragazzi se non c'è altro vi congederei vi auguro una buona giornata un buon lavoro e ci riaggiorniamo alla prossima settimana al prossimo lunedì buona giornata buona giornata professore rivederci grazie grazie grazie